Buonasera e benvenuto. Buonasera. Che belva si sente me lo dice tra 60 secondi. Adesso me lo può dire, che belva si sente? Ma guarda, ho letto la definizione di belva e non mi è piaciuta per niente. Uomo, persona, atta, compiere, gesti e ferati, crudele, malvagio. Perché lei per venire qua si è preparato sul significato di belva. Solo su quello. E quindi... No, ma è un complimento, eh, belva. Allora un orso. Un orso perché? Perché lo è acquieto, no? Dovrebbe essere, nell'immaginario. E poi magari riesce a diventare belva. Lei una volta ha detto, nel mio DNA ho sicumera e strafottenza, ma sempre alla matriciana. Davvero? Bella, mi piace. Sì, è vero, sono abbastanza sicuro di me, sono abbastanza sfrontato, però con l'indolenza della matriciana. E' strafottenza per finta? Sono strafottenza perché è divertente essere strafottenza. È proprio nell'indole, no? Mi viene molto naturale. Poi sono abbastanza anche timido per altre cose, perciò... Vabbè, benvenuto. Su Vanity hanno scritto Amendola ha questo benedetto sorriso che abbraccia il mondo e il mondo vuole farsi abbracciare da lui. Mi pare un po' troppo. Pura a me. Pura a me, però... Però è bello quando una persona sorride, no? Cioè, invitante. Uno le piace e sorride. Una volta lei ha detto Tutto sommato rimango sempre un gran bel bocconcino. È sempre un gran bel bocconcino. Eh, sarà un bel gran bocconcione ormai, però... Sì, non ho sempre... Come dire, non ho mai fatto finta di non piacere alle donne. Sono quel tipo di uomo là, bello, massiccio, de sostanza. È vero. Di se stesso, assa, belli Fioretti, ha detto Negli ambienti gay io sono molto considerato. Se piace gay vuol dire che in te c'è molta mascolinità? Mi ricordo perfettamente quell'intervista. Cominciamo a pranzo, finimmo molto tardi nel dopopranzo, ero umbriaco totale, posso aver detto qualunque cosa. Quindi ha detto qualsiasi cosa. Però c'è molta mascolinità. Insomma, sempre ho avuto un ottimo riscontro dal mondo gay, quindi motivo di vanto. Ma perché piace gay? E che ne so, chiedete a loro. Lei ha detto una cosa un po' alla Checco Zalone. Aia. Quando appunto Sabelli gli ha poi chiesto se avesse avuto mai pulsioni omosessuali, lei ha risposto no, ma ho sempre avuto un rapporto positivissimo con i gay. Sì, che ho avuto un sacco di amici, e non... A me è una categoria, alla Checco Zalone, capito? Ah, non avevo capito. No, non era quella l'intenzione, però in effetti può sembrare, è vero, sì. A Roma è stato scritto, dopo Francesco Totti, Claudio è l'idolo cittadino più transgenerazionale che ci sia. Lei è un po' un idolo a Roma? Non mi piace essere idolatrato, non idolatro nessuno. È vero che sto in casa della gente da 42 anni, quindi quelle generazioni si sono susseguite, e quindi sì, sì, è vero che... batto il chioto da tanto, e daie, 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 anche le cipolle diventano aie. Lei è un grande romanista, ha pure giocato, diciamo, per ben quattro minuti all'Olimpico, per beneficenza, ma l'unica volta che gli hanno passato la palla, lei l'ha lisciata. Sì, era troppo veloce. Ma è un fattifoso. Avevo sempre pensato, sì, vabbè, perché uno non si allena, e qua voi lo fate tutti i giorni, ma guarda che io... Sto là. Non ho visto proprio, non ho visto il pallone. Lei ha interpretato a suo dire il 70%, diciamo, di film in cui ha fatto, ha vestito la maschera del coatto, per il restante 30% ha fatto altro. L'etichetta vale la pena più cavalcarla che contrastarla, e lei l'ha cavalcata. Eh, sì, sì, l'ho cavalcata, e faceva molto ridere i primi anni che comunque veniva fuori questo personaggio di ragazzo, un po' di borgata, così è. E io mi adagiavo molto su questo, anche nell'intervista, un po' così. E poi i miei genitori mi dicevano, ma che canto sta a dire, sei nato a Villa Stuart. Infatti, 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 infatti suo padre, che è stato il più grande doppiatore italiano, Ferruccio Amendola, le diceva, piantala con la posa del coatto, che sei un ragazzo borghese con ottime frequentazioni. È vero. Però funzionava, quindi, per carità, io ho mangiato tanti sanpietrini, un ragazzo di ottima famiglia, anche molto fortunato, che però non si è risparmiato la strada, il muretto e tutto il resto. Perciò ne so. Infatti, infatti... Però diciamo che poi, ecco, lei ci ha giocato, per esempio, una serie di tatuaggi, c'è pure questo Colosseo, col gladiatore, quella è farina del suo sacco, diciamo. Quello, sono stato io il primo e so il braccio più imitato a Roma. Ah sì? Sì, sì. E gli piace sempre il Colosseo gladiatore? Ammazza tantissimo. Mi sono fatto una tigre così qua. Adesso? Il mese scorso. Ah sì, elegante. Fine. Fine.